allora lo spazio lo spazio angusto perché vabbè perché è così insomma mi piacerebbe avere un campo di calcio invece ho uno scabuzzino comunque ciao volevo dire gli accordi volevo parlare un attimo degli accordi per ukulele allora quattro corde a e c g in realtà dovrebbe essere questo questo io l'ho alzato di un'ottava ciò vuol dire che se questo è un sol basso al dodicesimo tasto diventa un sol acuto generalmente l' ukulele è accordato io lo alzo qui ma il suono di un ukulele accorde vuote dovrebbe essere questo gli accordi generalmente l'ukulele si suona sempre con gli accordi cioè si può suonare anche con le note ma generalmente si tende ad usare più gli accordi per accompagnare la voce allora gli accordi sono dei gruppi di note messe insieme secondo una certa logica cioè gli accordi sono delle note dei gruppi di note che tra di loro devono stare bene insieme perché se io faccio questo che è un accordo di do cioè metto solo un dito qua sul terzo tasto della prima corda allora è bello se invece faccio un accordo come dire dissonante cioè i suoni non stanno bene insieme poi anche qua è questione di gusti però sentite che questo è roba da film horror ok quindi torniamo ad un accordo facciamoci riposare un po le orecchie allora noi facciamo un giro armonico impariamo a fare un giro armonico un giro armonico è come dire una conseguenza di accordi un accordo dopo l'altro che ritornano al giro di partenza per quello si chiama giro perché un cerchio allora io per esempio adesso farò il accordo di do maggiore che abbiamo già visto che è questo un dito io metto il mignolo qua perché poi se uso sempre l'indice dopo come dire vado a giocare a pallone con un solo uomo invece qua ne ho quattro disponibili quindi uno qua lo metto in difesa due in centrocampo in un attacco allora qua metterò il mio attaccante il mignolo ok questo è il primo accordo do maggiore d'accordo lo strumento deve essere bene accordato perché sennò viene forma qualcosa di meno comprensibile accordo di la minore allora io vado sull'ultima corda che questa è l'ultima quarta detta anche metto un dito il medio sul secondo tasto poi tutto il resto sarà senza dita adesso voglio fare l'accordo di fa maggiore il fa maggiore è uguale alla minore però devo aggiungere l'indice sulla corda numero 2 tasto numero 1 per cui sono arrivato al fa maggiore sono arrivato ad un bel pezzo praticamente quasi alla fine del giro armonico adesso l'ultimo accordo è anche il più difficile per cui vi consiglio di provarlo tante volte che è il sol allora il sol si compone mettendo il dito medio sul secondo tasto della prima corda l'indice andrà due piani sopra sulla terza corda sempre secondo tasto e fino qua ci siamo l'anulare cioè il terzo dito detto chitarristicamente andrà sulla seconda corda terzo tasto e poi il giro si conclude ritorno da capo do maggiore la conseguenza sarà un insieme di accordi che messi in rapida successione produrranno un effetto diciamo musicalmente gradevole ok questo è un primo giro armonico volevo aggiungere che questo giro armonico probabilmente vi risulterà ma perché tutte le canzoni alla base hanno sempre un giro armonico quindi questo è un giro armonico che può contenere infinite canzoni diverse intanto provate ad imparare questo in rapida successione ultima cosa che volevo dire è arrivare a tempo sugli accordi meglio arrivare con il dito magari un po sbidenco magari l'accordo non preciso però il ritmo è fondamentale sentite adesso sbaglio oppure facendo sembrare che il tempo è preciso piuttosto che questo dove gli accordi sono perfetti ma fuori ritmo sentite che è molto meno efficace piuttosto che un giro sbagliato cioè con accordi non precisi però ritmicamente a tempo qua quasi non ci sia cosa degli errori va bene provate voi